Ciao a tutti, sono Gregorio Mancino, questo è il mio studio, il Magico Studio sui Navigli, dove nascono questi cuori che vanno in tutto il mondo. Sono nati dei cuori speciali per Mishake e per un importante progetto, quello di regalare un sorriso a dei bambini che vengono curati al cuore, quindi un cuore serve ad aiutare altri cuori. Questi cuori particolari per Mishake andranno a far sorridere dei bambini che hanno veramente bisogno di cuore e noi riusciremo a dare a loro un sorriso, grazie anche a voi, vi voglio bene, ciao! Grazie a tutti!